Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, un chilometro di coda per mezzo pesante in fiamme tra Valdichiana e Chiusi. In A12 per lavori e chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo, un'entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. In FIPILI verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Empoli-Est ed Empoli verso Livorno. A Pistoia, per danneggiamento di un ponte, è chiuso al transito il tratto della tangenziale tra Pistoia-Ovest e Ponte Europa in direzione Nord, verso la montagna e verso Pistoia. Si informa che fino al 9 marzo resterà chiusa la funicolare di Certaldo per lavori di collaudo e manutenzione. Infine per i treni, dal lunedì 26 febbraio saranno riattivati i treni tra Empoli e Firenze-Castello, con la stessa programmazione precedente alla sospensione. Ed è tutto, buon viaggio!